E' adesso un momento caro perché tocca la moda, una moda cara al mio cuore perché ha una sensibilità, questo designer veramente speciale, ha cominciato giovanissimo quando aveva 14 anni, ha lavorato con dei grandissimi maestri di moda del... Calvin Klein, bravo, accidenti, hai studiato? Beh, allora non vi dico nient'altro, guardatelo, Mario dice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.